Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo tutorial di spiego come risolvere così il problema riguarda che a noi ci serve il Media Feature Pack sul nostro sistema operativo se no non possiamo usare la fotocamera, non possiamo usare altre applicazioni per fare chiamate e altre cose così quindi in questo caso andiamo direttamente su funzionalità facoltative, tu vuoi scrivere qua sotto funzionalità facoltative ti porti al suo sistema, funzionalità facoltative, visualizziamo così le funzionalità e andiamo così a scrivere Media Feature Pack e così facendo come puoi vedere, eccolo qua, andiamo così a installare la nostra funzionalità, la inseriamo e una volta fatto andiamo così a scrivere Windows PowerShell qua sotto, tasto destra sopra, bisogna seguirlo come amministratore per avere i privilegi per eseguire il comando se non lo apri come amministratore ti darà un errore, fai, esegui come amministratore e inseriamo così il comando che ti ho lasciato in descrizione ed eccolo qua, operazione completata, chiudiamo qua e riavviamo il nostro computer per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao